Io avevo semplicemente bisogno di un ascensore, non volendo gravare sui miei genitori, ho deciso di creare questa raccolta. Ovviamente non mi aspettavo che esplodesse come appunto è successo, infatti tutto questo amore è stato davvero incredibile. Morgana ha 30 anni, da quando ne aveva 17, sulla sedia a rotelle per una malattia neurodegenerativa, la tassia di Frederick, abita in un condominio di stia comune dell'Alto Casentino e per uscire di casa ha installato da tempo un montascale, ma vorrebbe uscire ed entrare dalla sua abitazione in piena autonomia. Sempre uscire per andare al lavoro per esempio, che io tutti i giorni dal lunedì a venerdì, dalle due e mezzo alle sei sono in ufficio con il mio collega e anche lì andare a lavorare e rientrare a lavorare in autonomia sarebbe ottimo. Così ha deciso di dare il via ad una raccolta fondi sulla piattaforma online GoFoundMe e in pochissimi giorni sono fioccate le donazioni. Cosa c'è in prospettiva quindi per raggiungere questo obiettivo? Il proseguimento ovviamente della raccolta fondi, poi sappiamo anche di un'iniziativa che il comune di stia ha voluto insomma organizzare per te. Sì, siamo in contatto infatti con il sindaco di stia che ha avuto l'idea di organizzare una sorta di evento, ancora non sappiamo bene in cosa cosisterà, se è una cena, un pranzo o un evento in teatro, ancora non ci sarà bene ma comunque qualcosa ci sarà e non vediamo l'ora. La valutazione su come e dove installare l'ascensore è già stata fatta adesso a Morgana e quindi molto più vicina al risultato e alla sua sacrosanta autonomia. Davvero tutta stia si è attivata per aiutarmi, grazie davvero a tutti perché è davvero incredibile.